La Lega lascia il Copasir. Dimissioni del presidente Raffaele Volpi e del senatore Paolo Arrigoni. Matteo Salvini provoca. Ora dimissioni di tutti i deputati e metà componenti a FDI. Intanto prosegue l'indagine interna sul caso Renzi Report. La Lega abbandona il Copasir. Il comitato di controllo dei servizi segreti. Il presidente Raffaele Volpi e il senatore Paolo Arrigoni hanno rassegnato questa mattina le loro dimissioni. Anticipate dal leader Matteo Salvini. Noi le depositiamo. Non le annunciamo. Si chiude così un primo capitolo di uno stallo durato tre mesi con Fratelli d'Italia che reclamava la presidenza. Ai sensi della legge 124 del 207 che la assegna a una forza politica di opposizione. La Lega da ora pretende l'immediata. Integrale applicazione della legge 124 del 2007 che prevede l'assegnazione all'opposizione di 5. 5. Componenti su 10. 10. Tra cui poter scegliere l'eventuale presidente. Si legge in un comunicato del Carroccio. Un monito alle altre forze politiche. Se si deve rispettare la legge. Si segua aia lettera il testo della 124. Che include una previsione evidentemente difficile da far accettare a PD e 5 Stelle. Affidare metà dei componenti all'opposizione. Cioè a FDI. I componenti della Lega nel Copasir non parteciperanno alla votazione di nessun presidente fino alla completa applicazione della legge e si attendono istantanee dimissioni di tutti gli altri componenti del comitato al fine di consentire ai presidenti di senato e camera le conseguenti valutazioni. Riconfermando che gli stessi presidenti avevano dichiarato completamente legittima sia la composizione del comitato sia la sua presidenza. Continua il comunicato leghista. Ora attendiamo le dimissioni di tutti gli altri componenti e la nomina di un altro comitato. Rincara Salvini. Grazie a tutti.